Buongiorno, ben svegliati, buon lunedì. Buon inizio di settimana, ben ritrovati con Mattino 6, la rassegna stampa della nostra redazione. Come ogni giorno andremo a vedere i principali titoli e le notizie all'interno dei nostri quotidiani, ma non solo in questo lunedì che di fatto è il primo giorno senza i mondiali. Si sono chiusi ieri in Russia, ha vinto la Francia in finale contro la Croazia. Vedremo questo, notizia che pervade ampia parte dei quotidiani, anche di casa nostra, ma non solo, anche le altre notizie. Cominciamo dalle prime pagine, in questa prima parte, alle mie spalle. Vedete la prima pagina del centro, edizione di Pescara, che apre con l'aereo bloccato sulla pista per sei ore. Pescara, manca l'aria condizionata, il volo per Londra parte in ritardo. La foto, molto grande ovviamente, è dedicata proprio alla Francia, perché Mosca è bleu. Francia sul tetto del mondo dopo 20 anni, esattamente a 20 anni, al primo successo del 98. I transalpini travolgono la Croazia 4 a 2 e si laurea, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Torno a me in Abruzzo, nelle cronache, a scafa, folla e lacrime per l'addio alla piccola Francesca. Non potrebbe essere, altrimenti per lo sport, l'intervista a Giorgio Repetto. Siamo in Casa Pescara, felice di essere qui, ma non sono il direttore sportivo. Per la politica si va verso le elezioni. E allora nel box la Lega cala lasso con Salvini, che oggi torna in Abruzzo. Rifiuti e ambiente, cresce la raccolta differenziata. Cittadini scontenti, che dicono, costa troppo la differenziata. Questa è la prima pagina di Pescara. Andiamo sulla prima pagina, sempre del centro, ma edizione di Cacchieti. Lanciano, basto, scoppia la gomma, muore in moto. Siamo a Rocca Spinalveti, meccanico, 42enne, cade durante un giro con gli amici. Non cambia la foto e non cambierà nelle quattro edizioni. Allora andiamo direttamente nelle cronache. Siamo a Chieti, città deserta. I locali salvano il centro. La settimana mozzartiana, leggiamo. Sotto il segno dei tagli, si chiude domani e non sembra aver portato in città una folla di persone. Sempre a Chieti, Marruccino, gli attori pagati dopo sette mesi. E a Lanciano, invece, comune debiti fuori bilancio per 2 milioni di euro. Poi, come vedete, gli altri box e la fotonotizia sono esattamente identici. Edizione di Teramo del centro. L'apertura, invece, è dedicata alla politica, agli equilibri politici. Nuova giunta, c'è l'intesa sui nomi. Teramo resta il nodo delle deleghe. Si attende l'annuncio ufficiale. E sempre per la politica, siamo a Giulianova, asse fra Ruffini e D'Ignazio. Leggiamo perché esportare sulla costa il modello Gian Guido d'Alberto, che ha permesso al nuovo sindaco di Teramo di realizzare un miracolo politico. È la parola d'ordine che in questi giorni sta trasmettendo Claudio Ruffini, che seppure dietro le quinte sta tornando in campo nella politica giuliese per le prossime elezioni. Gli è a fianco l'assessore regionale Giorgio D'Ignazio. Come candidato sindaco si fanno i nomi di Jurgens Cartone e Giuseppe Di Giandomenico. E vedremo se poi sarà così. A proposito di politica, il politico scomparso oggi, l'addio di Roseto a Pio Rapagnà. Ad Alba Adriatica, Movida, siamo in piena estate, dunque scoppia però la guerra dei Decibel. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Antenne, sosta a tempo in Pineta all'Aquila. Cartelli del Comune a Monteluco di Roio, cittadini in allerta. Sul Gran Sasso, drink e funivia a 10 euro. Un aperitivo in quota, si legge, certamente in uno scenario mozzafiato. Ad Avezzano, pista per bici tra sette giorni, novità in centro. A Sulmona invece post-sisma, senza sussidi, 120 sfollati. Cambiamo il quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente la parte abruzzese, l'apertura è dedicata alla cronaca. Motociclista, si schianta e muore. Strade di sangue, è un uomo di 42 anni, di Rocca Spinalveti. Luca Piccirilli, l'ultima vittima di una settimana nera in Abruzzo, era partito ieri mattina per una gita nell'Alto Vastese. Questa è la moto dopo, purtroppo, il terribile schianto. Siamo ad Avezzano, treno bloccato da un blackout. Proteste per i guasti continui. In alto, questioni che riguardano prevalentemente lo sport. Rugby, contenzioso all'Aquila. La Serie A si allontana. Per la MotoGP, Jannone al veleno contro Espargarò. Corsa finita per colpa sua. Per il Pescara, l'intervista ad Antonio Di Battista. Pescara, ecco perché hai un settore giovanile, modello. Scendiamo a centropagina perché sabato è stata la dolce e lunga notte di Pescara. Notte bianca dell'Adriatio, vedete, in 300.000 in strada fino all'alba. Nomine opache, guerra a Teramo sui nuovi primari, siamo politica sanitaria di fatto. Contestate le scelte della Asla in sei concorsi, i candidati esclusi chiedono l'accesso agli atti. E poi il derby del vino, Montepulciano, la sentenza. Premia l'Abruzzo. In basso l'idea del sindaco. Vediamo di cosa si tratta. Fontamara si legge sui muri di Aielli. E dunque una possibilità di rileggere l'opera di Ignazio Silone, proprio sui muri di Aielli. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere anche qui le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Il Corriere della Sera in questa apertura doppia perché il pezzo di Aldo Cazzullo con la foto della Francia vince la squadra del mondo. L'urlo di Pogba, le lacrime di Griezmann, le danze sotto la pioggia della mamma algerina di Mbappé. Pareva Croazia e resto del mondo. I croati potevano dominare a tratti. L'hanno fatto. Non potevano vincere i campioni già nel futuro di Mario Sconcerti. Gioventù al potere. La foto del capitano Iuris, capitano della Francia, sotto la pioggia di Mosca che alza la Coppa del Mondo per la Francia. Il secondo successo. Ma l'altra apertura è dedicata a navi e migranti. Europa spaccata sull'accoglienza. Sbarco nella notte il Presidente Trump. L'UE è una nostra nemica. Tensioni tra governo e INPS perché il governo accusa l'INPS. Boeri resiste. Mi caccino, dice il Presidente dell'INPS. Lavoro di maiotria e il giallo sul decreto. Ecco il colpevole. Cambiamo quotidiano adesso il governo all'assalto di Boeri ma c'è anche Tria nel mirino. INPS. Inattendibile la replica. Negazionisti. I 5 Stelle accusano il Ministro. Trama con Banca Italia. Poi leggeremo anche le prime pagine di questi due quotidiani. le pagine principali. Insomma c'è questa polemica molto forte. L'attacco a Boeri. I ministri Tria e Di Maio attaccano l'INPS sulle stime della perdita di contratti di lavoro del decreto dignità. Sono inattendibili. Salvini chiede poi le dimissioni del Presidente dell'Istituto di Previdenza Tito Boeri. La difesa dell'INPS secondo il governo le stime sono prive di basi scientifiche e dichiarazioni che scatenano la reazione di Boeri che attacca tacciando a sua volta l'esecutivo di negazionismo economico ma è anche il Ministro dell'Economia Tria nel mirino accusato dai 5 Stelle di essere troppo autonomo rispetto al contratto di governo e di tramare con Banca Italia per fare la legge di bilancio. L'immagine simbolo probabilmente di ieri pomeriggio, l'esultanza di Macron allo stadio Luschniki. Il sogno della Croazia si spegne in finale. La Francia multietnica vince il Mondiale. E questo è il Presidente francese Macron che esulta in maniera non proprio composta proprio sulle tribune dello stadio Luschniki. Il caso Salvini e la legittima difesa spunta la lobby delle armi. Andiamo a vedere le prime pagine proprio di questi due quotidiani partendo dal Corriere della Sera che apre in primo piano con la questione migranti. Migranti sì di mezza Europa a Conte ma Praga fa muro così è l'inferno. Anche Germania, Spagna e Portogallo accolgono 50 profughi a testa. No da c'è che ungheresi, i paesi di Visegrad. E la visita del Ministro dell'Interno Salvini in Russia per la finale mondiale. Lo vedete, l'avrete riconosciuto insieme all'ex attaccante della Juventus, David Treseguet. E poi sulla polemica che riguarda i conti, eccola qua a pagina 8 del Corriere della Sera. Decreto dignità scoppia il caso Boeri, Tria, Di Maio e Salvini lo attaccano le stime sui posti di lavoro. Il leader leghista dice si dimetta e risponde Boeri. E' un negazionismo economico e poi il pezzo in basso, l'analisi in basso, il bivio del governo che infine sceglie di salvare il ragioniere dello Stato. Vediamo anche Repubblica che invece apre con la polemica governo IMSS. Il governo all'attacco di Boeri adesso si deve dimettere scontro sulle stime del decreto dignità. I grillini dicono inserite da una manina e per il MEF sono discutibili. Salvini esce allo scoperto e chiede la testa del Presidente dell'Ips che replica. e negazionismo economico in realtà tutto si gioca su quegli 8 mila contratti a termine in meno all'anno. Dal prossimo sino al 2028 che ci sarebbero, secondo la relazione tecnica, nel momento in cui il decreto dignità dovesse entrare in vigore. Eccolo qua, al centro delle polemiche, la previsione che fino al 2028 ci saranno 8 mila contratti a termine in meno all'anno. Questo è riassunto anche nello schema. E poi quella tentazione della politica di disfarsi dei tecnici ingombranti, dal governatore Baffi al commissario Cotarelli. Il rigore sui conti può costare garo ai Grand Commiss. Questa è l'apertura di Repubblica, ma è tria, questo è il retroscena molto importante, il vero obiettivo di Di Maio. Non può fare quello che vuole. I Cinque Stelle accusano il Ministro di lavorare già alla legge di bilancio con Banchi Italia. Il pezzo di analisi a Cuzzocrea che di fatto apre uno scenario differente. La polemica, il governo Inps in realtà avrebbe come fine ultimo quello di attaccare il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, che vedete nella foto al centro, proprio tra i due litiganti, il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il Presidente dell'Inps, Tito Boeri. Insomma, vedremo se poi effettivamente sarà così. E poi, legittima difesa, l'inchiesta, il patto d'onore tra Salvini e la lobby delle armi. Un contratto impegna il Ministro dell'Interno a coinvolgere le potenti associazioni quando si discute dei loro interessi. A partire dal DDL caro alla Lega che autorizza le vittime di reati a sparare agli aggressori. Questo è il pezzo, è un'inchiesta perché questo accordo pare sia stato firmato durante la campagna elettorale. Andiamo avanti con altre prime pagine dei quotidiani nazionali. Siamo sul Fatto Quotidiano, Conte, Strappa, altri tre sì, Berlino, Madrid e Lisbona pronti ad accogliere 150 rifugiati sulla nave di Pozzalo, lo che è di Germania, Spagna e Portogallo, dopo quelli di Parigi e Malta in alto per il PD. Cuperlo, cambiare i dirigenti del PD. Renzi è il passato. Festival di Spoleto, il futuro è senza sigarette. Parola di Mr. Philip Morris. E poi la storia di Copertin. Alla fine le Pussy Riot Beffano Putin, Limonov Lozar, non si è ripulito. La foto ovviamente è dedicata alla Francia campione del mondo. Altra foto ovviamente non può che essere quella di Tito Boeri. Decreto dignità, tutti contro le previsioni dell'Inps di Boeri. Anche Tria con Di Maio e Salvini. Il messaggero, la prima pagina nazionale. Governo Inps, sfida sulle pensioni. Decreto dignità comunicato. Tria Di Maio contro Boeri. Boeri sugli 8 mila posti persi, dati non scientifici. Boeri risponde negazionismo. Movimento 5 Stelle, Lega, piano per cambiare la governance e modificare la legge Fornero. Per lo sport, gioco all'italiana è tanto un bappé. La Francia è campione del mondo. E poi per la questione migranti, redistribuiti in 5 paesi UE, no dal blocco invece dell'Est. I paesi, come abbiamo visto prima, di Visegrad. Il mattino, siamo a quotidiano partenopeo, lo schiaffo dei paesi dell'Est. Non prendiamo i migranti. Ecco, troviamo proprio qui quello che stavamo dicendo. Ungheria, Repubblica Ceca contro la ripartizione, sarebbe l'inferno. Germania, Spagna e Portogallo ne accolgono altri 150. Nuovo caso ONG. Libero. Intervista al ministro degli esteri Enzo Moavero. Così ho fermato l'invasione. Abbiamo svegliato l'Europa che sugli immigrati latitava. Salvini rispetta gli accordi e stimola gli altri a fare altrettanto. La Nato deve presidiare il Mediterraneo. Non sono i sovranisti, ma i governi a remare contro l'Unione. Profughi in mare dopo Francia e Malta. Lì prendono altri tre paesi. Minaccia dell'ONG. Torniamo a centropagina. Ovviamente la foto grande. Una Francia spaziale vince il Mondiale. La Croazia brava e sfortunata, ma in realtà si legge. E' stata più debole. Il sole 24 ore. Tematiche economiche. Tasse compensate per 55 miliardi, ma il fisco lancia i controlli preventivi. E poi per i contratti a termine. Il test dei nuovi rincari. Decreto estivo. I contributi aumentati due volte al 2013 rendono la formula più carica. Meno colfe e più badanti. Italiani in crescita nel lavoro. Domestico. Il tempo. Chi se ne frega dei terremotati. A due anni dal sisma la politica si è dimenticata di chi ha perso ogni cosa. Niente soldi, macerie, ricostruzione, fantasma. E' venuto Conte. Poi il nulla. E' con una espressione, con un titolo abbastanza provocatorio. Purtroppo, il tempo dice, ha vinto la Francia. Meglio secondi. Je suis Croazia. Di Massimiliano Lenzi. E bleu troppo forti. Lavar rovina la sfida. La stampa. Lavoro. I ministri attaccano l'Inps. Boeri. Lascio. Se lo chiede Conte di maietria. Discutibili le sue tesi. Salvini. Si dimetta la replica. Non mi può sostituire il viminale. L'analisi di Carlo Cottarelli. I numeri del nostro scontento. La foto. Show e gol. La Francia d'Inbappé sul tetto del mondo. In basso. Dietro la vittoria del mondiale. Il melting pot sconfigge i nazionalisti. Di Gianni Riota. Gigi Garanzini. Trionfo bleu. Con sacrificio e bollicine. Ma oggi è una giornata importante. Anche perché c'è il contropiede di Ronaldo. E' già a Torino. La verità. Esclusivo. Parla Paolo Savora. Ministro per le politiche comunitarie. Ribalto l'Europa. E trovo. 50 miliardi. Il ministro per le politiche comunitarie. Spiega il piano A. e dice, come vediamo nell'intervista di Martino Cervo, il piano B c'è anche l'A. Il punto è che si possono recuperare le risorse che ci servono. La foto Salvini e Conte rifilano alla Merkel altri migranti. A Macron resta solo il pallone e la foto della Francia. Campione del mondo. All'Università di Potenza, corsi per un solo studente. In Italia il 15% dei programmi ha meno di 10 iscritti. Il secolo d'Italia. ONG contro l'Italia. Questa è l'apertura del quotidiano. Da sempre molto vicino alle questioni di Fratelli d'Italia. E poi, caos della vostra lascia. Fermati i migranti violenti. Berlusconi contro i 5 Stelle. Così distruggete l'Italia. Meloni no alla sciaria. Chi la vuole se ne vada. Vediamo anche i quotidiani sportivi a questo punto. Partendo da Gazzetta dello Sport all'Italienne. Francia campione. Insomma, non proprio calcio champagne. Quello che ci ha fatto vedere la nazionale di Deschamps. Un po' all'italiana effettivamente. Difesa ferrea, infatti. Leggiamo. Calci piazzati, contropiede. A Mosca i Bleu battono la Croazia 4-2. Conquistano il secondo mondiale. Mbappé super, gollasso. Miglior giovane è simbolo di una nazionale plurale. Griezmann, uomo partita. Delirio a Parigi. Deschamps come Zagallo e Beckenbauer. Sono i tre che hanno vinto una Coppa del Mondo. Sia da giocatori che da allenatori. Sono in tre. Da ieri Deschamps è come Zagallo e Beckenbauer. Modric si consola. Top player del torneo. E il commento di Luigi Garlando. Didier è la nostra arte. Ciò che non riuscì a Napoleone con la guerra. È riuscito al piccolo generale Deschamps con un pallone. Conquistare la Russia e il mondo intero. Francia campione per la seconda volta. Oggi come vent'anni fa festa di popolo all'arco di trionfo voluto dal grande corso dopo Austerlitz. Ovviamente pezzo che poi trovate nelle pagine interne ma oggi è il giorno di Ronaldo. Eccomi. Ieri sbarcò a sorpresa aversi R7 con mamma e Giorgina. E oggi parla da Juventino. Questa è la foto dello sbarco di ieri di Cristiano Ronaldo. È arrivato in Italia con un volo privato. Oggi sarà presentato dalla Juventus. L'intervista al sottosegretario Giorgetti. Troppe tre candidate per le Olimpiadi. Sia i giochi ma low cost. Il coni sia meno romanocentrico. Vigileremo sui fondi. Altre notizie. Sono tante perché ieri è stata una domenica di grandissimo sport. Djokovic. Quarto trionfo a Wimbledon. Battuto Anderson in finale abbastanza agevolmente. Nole è rinato. MotoGP in Germania. Che è Marquez. Valentino è secondo. Per il calcio italiano. Lautaro attacco Inter. È già ok. Ora via le prove d'intesa con i cardi. Milan ricorso tasse e i nuovi vertici. Sarà una settimana. Verità. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport con una felicissima intuizione. De Champs-Élysées. Griezmann, Pogba e Mbappé. 4-2 alla Croazia. La Francia conquista il titolo per la seconda volta nella storia. Succede alla Germania. L'eroe è il tecnico all'italiana. Campione del mondo da giocatore nel 98 e da selezionatore 20 anni dopo. Così si completa l'arco di trionfo di una formidabile carriera. Vedete, De Champs portato in trionfo dai suoi. Il pezzo del direttore Ivan Zazzaroni. Viva Didi La Chance. In basso siamo quasi un titolo in clima natalizio. Tu scendi dalle stelle. Ronaldo è già a Torino. Oggi è il Natale della Juve. Tutto sul programma della giornata più importante di sempre per il club degli Agnelli. dei tifosi bianconeri. La diretta è infinita. L'incontro con il colpo del secolo. E ovviamente lo spazio principale è su Tutto Sport. CR7, un extraterrestre a Torino. È sbarcato ieri. Oggi visite mediche. Presentazione città in delirio. Il mental coach Corapi. Cristiano farà scattare l'effetto emulazione. La Juve salirà ancora più in alto. Ma d'altronde insomma tutto sport è da sempre molto vicino al mondo Juventus. E dunque per una giornata come questa riserva solo un piccolo titolo alla Francia. Il mondo è bleu. Griezmann, Pogba e Mbappé consegnano alla Francia il secondo titolo mondiale. Alla Croazia non bastano. Perisic e Mandzukic finisce 4 a 2. Ci fermiamo adesso per la pubblicità. Le previsioni del tempo. Poi qualche consiglio pubblicitario. Poi rientriamo per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6. Ricominciamo la lettura dei quotidiani. Ovviamente in questa seconda parte spazio a quelli di casa nostra. E ripartiamo da pagina 2 del centro. Con il boom della differenziata. Abruzzesi ecologisti ma insoddisfatti. Per i costi troppo alti. Lo rivela un'indagine istat sui comportamenti degli italiani. Gli orari di raccolta del porta a porta scontentano i cittadini. Poi c'è lo specchietto dei rifiuti che sintetizza le cifre. Ma evidentemente ci sono alcune cose che rendono perplessi gli abruzzesi. In basso reati ambientali decuplicati in dieci anni. L'Abruzzo tra le regioni con la percentuale più alta di violazioni in materia di acque reflue. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Parliamo di politica perché la Lega cala l'asso. Salvini in Abruzzo ovviamente il tema è verso le elezioni. Oggi il vice premier a Silvi per la festa del neo sindaco Scordella. Bella Chioma dice meritiamo di indicare il nome del futuro governatore. Visto che le elezioni sono alle porte. E a Montesilvano come leggiamo nasce il gruppo consigliare proprio della Lega. Di spalla convegno di Ubi Banca domani a Chieti, credito e innovazione. Così crescono le piccole e medie imprese. In basso Noemi in 300 al motoraduno di solidarietà. Guardia Grele è riuscita alla manifestazione. Il Vescovo Forte è andato a trovare anche la bambina a casa. Queste sono le foto. Vedete in questa, nella prima, il Vescovo Forte con Andrea Sciarretta, papà di Noemi. E questa è una foto del motoraduno. Siamo a Pescara. Il bilancio della Notte Bianca. Notte Bianca, locali pieni e affari d'oro. Questo è il bilancio della festa sulla riviera. Commercenti e balneatori entusiasti. Ottima riuscita dell'evento, ma pochi parcheggi. I vigili, 100 multe e 36 auto rimosse. E c'è anche il commento dell'assessore Cuzzi. Cuzzi, Pescara è stata invasa da 300 mila persone. Nelle foto, come vedete, il riassunto per immagini, ovviamente il riassunto parziale per immagini, della Notte Bianca di Pescara. Rimaniamo a Pescara, ma per altre questioni, a pagina 11, Odissea all'aeroporto, aereo fermo sulla pista per quasi sei ore. Manca l'aria condizionata, il volo per Londra con 187 persone parte in ritardo, malori tra i passeggeri e il personale addetto. Un disguido che ha fatto slittare la partenza proprio dell'aereo. Altre notizie. Per seguita la donna che lo rifiuta, preso un giovane di 22 anni, è stato bloccato dalla polizia, mentre cercava di sfondare la porta di casa. Siamo sempre a Pescara. In basso, case sulla Rivera Sud, si riapre lo scontro. La società Pescara Porto impugna la sentenza del Tar. Andiamo avanti, pagina 12, mancano i posti negli asili, 150 bambini restano fuori. Pubblicate le graduatorie delle scuole comunali, si allungano le liste d'attesa. Il Comune rassicura, ricorreremo ancora alle convenzioni con i nidi privati. Le liste di attesa negli asili comunali riassunte in questo specchietto. Le domande presentate, i posti disponibili, liste d'attesa, insomma tutto quello che c'è da sapere. A centro pagina, quattro istituti, sono privi di agibilità. Seccia di Forza Italia lancia l'allarme, servono interventi urgenti. Ma l'amministrazione li riaprirà a settembre. E in basso, invece, cambiando argomento, giusto tagliare i 40 aceri in via Aterno, l'ordine degli agronomi. Sceglieremo noi i nuovi alberi. E poi, siamo a Scafa, con l'addio alla piccola Francesca, palloncini e fiori bianchi per l'addio a Francesca. Scafa, folla ai funerali della bambina morta a tre anni dopo un incidente stradale. Il parroco, questa piccola, ci ha insegnato l'amore e la gioia per la vita. Queste sono le foto, vedete quante persone, ovviamente, per dare l'addio a questa bambina davvero sfortunata. In basso, siamo a Francavilla, asilo nido, sono 50 gli ammessi. Anche qui, pubblicata la graduatoria dei bimbi iscritti alla scuola comunale. Siamo a Chieti, cambiamo pagina, andiamo a pagina 14. I locali investono per salvare il centro. I commercianti deludenti, il bilancio della settimana mozzartiana pubblico in strada, solo grazie ai nostri eventi e l'intervento del sindaco Umberto Di Primio. La città non è spenta, Corso Marrucino era gremito. Vedremo poi se ci sarà una controrisposta in questo senso. Tragedia in Molise. Siamo a Rocca Spinalveti. Scoppia la gomma, muore motociclista. Luca Piccirilli, 42 anni, meccanico di Rocca Spinalveti, è deceduto sul colpo sulla strada tra Castiglione e Belmonte del Sannio. Nella foto proprio c'è il luogo dell'incidente, purtroppo, che è costato la vita a Luca Piccirilli. A centropagina, teatro, attori pagati dopo sette mesi. Chieti arrivano i fondi della regione al Marrucino e parte il saldo dei debiti. In basso, tragedia di Lanciano. Mio figlio aveva un cuore buono, la mamma di Cesare in chiesa. Grazie a chi ci è stato vicino, la mamma di Cesare Giulianti, morto in un incidente stradale. Venerdì scorso, l'Aquila, cambiamo provincia, allerta tra gli amanti della montagna. Non più di quattro ore sotto le antenne di Eroio. Cartelli del Comune per la passeggiata a tempo ridotto nel piazzale della Pineta di Monteluco, tra degrado e abbandono. Noi vedete proprio questo cartello che dice una sosta consigliata, massimo quattro ore. Altra notizia di cronaca, cade dalla bici lungo la pista di sci ferito, soccorsi in elicottero a Campo Felice e poi a centropagina. Aperitivo in quota e funivia a 10 euro. Gran Sasso, le prime morse del neo-amministratore Pignatelli, in pianto aperto fino a settembre. In basso, Einar, la star di Amici, fa il pienone. L'Aquila, folla di giovanissimi per il cantante al centro commerciale, l'Aquilone. Andiamo avanti, pagina 17, pista per bici, cantiere tra una settimana, rivoluzione in centro. Avezzano, il 23 via all'opera discussa, taglio di 200 posti auto. Di Bastiano, del centro giuridico, una città più moderna. E poi, invece, di spalla siamo a Prato-la-Peligni, una chiesa ancora chiusa dal 2009, perché è inagibile. Rimaniamo ad Avezzano, rapina nel tunnel. Due a processo, bandito e complici accusati per l'aggressione alla stazione. Rischiano otto anni di carcere. In basso, post-sisma, 120 sfollati senza contributi. Sul Mona, finanziamenti per l'autonoma sistemazione, terminati a nove anni dal terremoto. A Teramo, la nuova giunta. Intesa sui nomi, c'è il nodo delle deleghe. Oggi è il giorno decisivo per l'annuncio. Il sindaco D'Alberto, questo è l'obiettivo, ma ci stiamo ancora confrontando. E per la politica, tra poco ci saranno anche le elezioni a Giulianova. E allora, elezioni a Giulianova, asse Ruffini-Dignazio. Si lavora ad una coalizione modello Teramo, come candidato sindaco Cartone o Di Giandomenico. E vedremo se poi ci saranno sviluppi su questo asse politico. A Roseto, oggi, l'ultimo abbraccio a Rapagnà. Camera ardente a Palazzo del Mare nel pomeriggio. I funerali al Sacro Cuore, il licordoglio del Consiglio regionale. A Campli, donna si butta dal Belvedere, morta sul colpo. E a Mosciano, torna questa sera la salma del DJ morto a Santo Domingo. Qualche giorno fa, lo ricorderete, la storia di Stefano Tulli, morto a Santo Domingo, ma originario di Mosciano. Invece ad Alba Adriatica, torna la guerra, la movida molesta. Condominio in rivolta per la musica ad alto volume. Non ce la facciamo più, intervenga il sindaco. Qui siamo già allo sport. Allora, ripartiamo con il messaggero, perché vediamo come Pescara sia stata, in questo fine settimana, la capitale del divertimento. La notte bianca dell'Adriatico si conferma evento clou dell'estate, 300 mila presenze secondo il Comune. Fiume umano sulle due riviere, pienone concerti di Bertè e Grandi, risate con Leo e Olivieri, affari d'oro per il commercio. L'assessore Cuzzi, una città che emoziona quando ospita iniziative di grande qualità. La foto che è un po' testimonia del pienone ad uno dei concerti della notte bianca dell'Adriatico a Pescara. La ricorrenza, paz, 30 anni dopo, il ricordo in un murale, serata in memoria dell'artista alle 21 all'Aurum, per accogliere l'opera donata da Massimo Carafa. In basso, altre notizie, sfonda il portone a calci in manette per stalking, donne nel mirino. E poi, strade di sangue, il giorno del dolore, palloncini bianchi, lacrime e abbracci, tutta scafa per l'addio, come avete visto, a Francesca Gerardi. Siamo all'Aquila, amianto in centro e frazioni. La bonifica non conosce sosta, è molto pericoloso per la salute, oltre che altamente inquinante. Importante sinergia tra privati, come il gruppo Iemonnanzi, assessorato e ASM. L'assessore imprudente con gli interventi di ricostruzione e possismo è quello che stiamo facendo, elimineremo il problema. E poi, per altra notizia, i Salesiani, torna dall'Africa Don Nicola, il missionario. Assassa, progetto case, puzza nauseante da un canale di scolo. In basso, precipita dall'elicottero Made in L'Aquila, un morto in Veneto. La ricorrenza, Madonna del Carmine, messa con il Cardinale Petrocchi. Parliamo di trasporti, manca l'energia stop, treni e mega ritardi. Oltre tre ore fuori orario, il convoglio che doveva arrivare alla stazione di Avezzano alle 18.20 è arrivato alle 21.20. Scompare anche il bus sostitutivo, ma è stato deciso uno smantellamento generalizzato di varie strutture, con ovviamente molti disagi. Ad Aielli, scrivere sui muri Fontamara di Silone, un successo. E vedete l'operazione di stesura del romanzo, ma su un muro. Che evidentemente è stata una cosa molto apprezzata. Altre notizie sul Mona, lo spopolamento non si arresta, ora è allarme. Leggiamo in basso, l'emorragia è dovuta senza dubbio alla mancanza di lavoro e di opportunità, evidentemente. Per la sanità, boom di anziani, i problemi aumentano. Ovviamente restiamo in Marsica e poi a Pescassero, l'Ideos, ecco il nuovo regolamento. Il sindaco l'accesa, la linea di ricorrere alle vie giudiziarie, non paga. A Chieti, sbatte sul guardrail e muore in moto davanti agli amici. La gita della domenica finisce in tragedia. La vittima è Luca Piccirilli, 42 anni, meccanico di Rocca Spinalveti. L'incidente sarebbe dovuto allo scoppio di uno pneumatico. Oggi alle 16 i funerali nella chiesa di San Michele, Arcangelo. Di spalla invece, leggiamo la polemica. A Teneo Adriatico, il caso finisce in consiglio. A centropagina, lacrime e fiori per l'addio a Cesare Manzi della Wilm, un grande lavoratore. Il dolore della famiglia, di amici e colleghi, per Cesare Giuliante. Anche lui purtroppo vittima di un incidente in questa settimana davvero nerissima sulle strade abruzzesi. In basso all'Abruzzo, il derby del Montepulciano, la lunga disputa con i Toscani per l'identità territoriale. Si chiude nel giorno dei 50 anni della denominazione di origine controllata. Siamo a Teramo, ASL, la guerra dei primari. Le nomine poco limpide. Molti medici vorrebbero chiarimenti su 11 concorsi gestiti dall'azienda. Il DG Fagnano, se la Commissione ha valutato così, io ne prendo atto. I facente funzione, leggiamo in alto, non hanno avuto la gratifica situazione che nel panorama nazionale brillerebbe per anomalia. Il mistero, donna 49enne precipita nel dirupo e muore. Siamo a Campli. E poi, boom di turisti a Tortoreto per la bandiera blu, 20% si legge, l'aumento dei turisti, davvero tantissimo. In basso, a proposito di stagione estiva, mare a misura di disabile, bagno per 32 sulle sedie, job in migliaia. A Pineto per la notte bianca dello sport e sport paralimpico con Alessia Iezzi e Andrea a Corsi. Mentre è un pezzo onnicomprensivo che parte con il Mareno Limits e poi, come vedete, nella seconda parte si occupa della notte bianca di Pineto. Siamo allo sport, Abruzzo Sport, siamo pagina 41, allora iniziamo la lettura. Pescara, settore giovanile, modello. Tonino Di Battista ha festeggiato i 20 anni con il Delfino. Se tutti ci prendono come esempio, un motivo deve esserci. Prima, fino a 14 anni, solo i ragazzi locali. Poi dai 16 migliori che vediamo nel mondo. Dai 18 in su no, perché è già un altro pianeta. Leggiamo proprio l'attacco del pezzo. 20 anni di Pescara. Una vita per un ragazzo nato con il bianco e l'azzurro nel sangue. Antonio Di Battista li ha festeggiati lo scorso 1 luglio, giorno in cui nel 1998 firmò per la prima volta per la società bianca-azzurra una carriera nel settore giovanile. Prima il gruppo e il lavoro dice Teo Di Mascio, poi in autonomia. I suoi titoli lo rendono uno degli uomini di calcio più preparati della storia del club. Istruttore ISEF, patentino UFA-C, UFA-B per valutatore atletico, UFA-A, direttore sportivo. Insomma, un curriculum lunghissimo per Di Battista, che evidentemente, come vediamo, è una delle carte più importanti per il settore giovanile bianca-azzurro. E in casa bianca-azzurra rimaniamo. Oggi a Palena, Pillon aspetta il vice di Fiorillo. Oltre a Del Grosso, leggiamo, già in gruppo, è da Antonucci, che si aggregherà domani. In settimana sono attesi gli arrivi di Scognamiglio, che proviene dal Cesena, degli Atalantini, Monachello e Guelfi. Per Capone e Melegoni, invece, si dovrà attendere la conclusione dell'Europeo Under-19 in Finlandia, che li vede impegnati alle dipendenze del commissario tecnico Paolo Nicolato. E, appunto, in basso, leggiamo le questioni di mercato, Del Grosso e Antonucci, il senatore e la matricola. Il difensore ex Venezia ringrazia la società. Da tempo dovevamo incontrarci. E, invece, c'è il via libera dalla Roma per il giovane attaccante, che quest'anno ha anche esordito sia in campionato, per alcuni minuti, che in Champions League, proprio con la maglia giallorossa. Del Pescara, ovviamente, si parla anche sul centro in apertura, con un'intervista molto lunga, molto articolata, al dirigente Giorgio Repetto, non diciamo direttore sportivo, perché lui stesso a dire biancazzurro nel cuore. Ma non chiamatemi direttore sportivo, responsabile dell'area tecnica, allora. Lo chiameremo così. Felice di essere qui, di essere tornato, ovviamente, in biancazzurro. Però la squadra non la sto costruendo io. Ci sono alcuni passaggi. Si riparte dal 4-3, sì, ma Pilon non è un tecnico integralista e può adottare qualsiasi sistema di gioco. Perché è stato confermato Campagnaro? Dice, sono contento che la società l'abbia fatto. Ugo ha un problema al polpaccio da tempo e con le cure dello staff medico si proverà ad evitargli altri infortuni. Tuttavia, un giocatore esperto ed un valore aggiunto in una squadra dove ci sono molti giovani può essere l'insegnante di tanti giocatori oltre a garantire 20 partite. Noi, ovviamente, a Campagnaro, auguriamo di giocarne molte, molte di più. Il direttore sportivo, Eleone, dice e il mercato lo fa lui, insieme al presidente. Io, interpellato solamente per Scogna Miglio e per Memushai. Centrocampo e difesa sono ok, ma servono almeno 60 gol per puntare ai play-off. Le strategie? Io non prenderei mai tanti giocatori in prestito. E oggi scatta il ritiro alle 18.30 alla conferenza di Pilon che si accavalla con quella di CR7, come leggiamo. Ma, insomma, ovviamente sono due squadre diverse e gli interessi dei tifosi sono molto differenti. Scatta il ritiro a Palena fino al 28. Nel frattempo, Gatto, che sembrava già preso, non si sblocca. Ecco, Monachello, l'esterno offensivo potrebbe sfumare. Savelloni e Carillo vanno verso l'addio. Siamo in casa Teramo, con le parole di Caidi. Io via, devo parlare con Campitelli. Il difensore in uscita, insieme a Tulli e Amadio, arrivano altri due Bebi, presi Chiossi e Kappa. Le parole di Stefano Amadio. Deciderò con il Presidente, abbiamo un rapporto ottimo. Qui ho vissuto anni bellissimi. Di sicuro per andarmene dovrò trovare un club che possa darmi nuovi stimoli. E per le iscrizioni, tremano, Serie B e C, il Diavolo, il Teramo, forse nel Girone C, quello meridionale, le bocciature della Covisoc. Avellino, Bale e Cesena, anche se per l'Avellino la situazione va ricomponendosi. E dunque potrebbe essere una bocciatura temporanea. Tante invece in Serie C, situazioni in via di risoluzione, Avellino, Juve Stabia, Trapani e Siracusa. Venerdì ci saranno i verdetti del Commissario, poi i ripescaggi, i funzionamenti. Oggi il termine ultimo per i ricorsi. Cesena oramai spacciato, il Bari Sfera, Mestre Lucchese, Reggiana e Andria sono fuori. Come al solito sarà una estate molto complicata dal punto di vista dei ripescaggi e quant'altro. Ma anche per le iscrizioni ci sono tantissime difficoltà. Andiamo in Serie D. Con le parole del presidente Lavezano Paris. Avezzano, ti porto in Cina l'anno del centenario. Marsicani ambiziosi. Il presidente Biancoverde. Stiamo chiudendo accordi con lo sponsor Aureli, Re delle Carote. squadra confermata per l'85%. Può fare la storia. In città è tornato l'entusiasmo. Preso Jonathan Alessandro per fare più gol. Di Curzio può essere la rivelazione. In alto. Spataro, un nuovo portiere per Rachini. Siamo in casa Francavilla. ha ingaggiato Bellanca. Mentre Domenico Di Cecco saluta e dovrebbe andare all'audace Cerignola. In basso va stese. Domani arriva l'attaccante Shiba, il bomber albanese. Un pupillo del tecnico Palladini e sarà in città per firmare il nuovo contratto. E ci sono anche le date dei ritiri delle abruzzesi di Serie D. Lavezzano in sede, il Francavilla andrà a Ovindoli. L'Aquila ovviamente, la situazione è ancora molto provvisoria da definire. In sede anche il Pineto dal 23 luglio in poi. Il Giulianova anche in sede dal 23 luglio in poi. Il San Nicolò, come di consueto, va a Castello del Monte sempre dal 23 luglio. L'Avastesi a Colle di Mezzo dal 26 luglio al 9 agosto. Queste sono le date delle abruzzesi di Serie D. E allora, proprio perché abbiamo parlato dell'Aquila, andiamo in casa l'Aquila. Un nuovo vertice tra Gulluni e alcuni imprenditori locali. Dopo l'iscrizione al campionato, Jus aspetta dei segnali. Fatto il possibile e attendo una risposta dai vecchi soci. In casa Giulianova, Fuschi confermato. Orlando nel mirino e piace l'esperto centrocampista borgese. In basso, Petronio va alla Torrese, l'addio della bandiera dei Terramani. Qui ho vissuto un sogno. Di Lollo invece il nuovo innesto a centrocampo. Pineto dalla Ternana invece arriva a massa. Lunedì prossimo scatterà la nuova stagione. Dopo Russo, perfezionato anche l'ingaggio del baby attaccante. Andiamo, torniamo sul messaggero per andare in Serie C. In casa Teramo, Teramo, l'Apriglia su Stefano Amadio. La società laziale, l'ex DS Battisti, è sulle tracce del centrocampista. Mercoledì raduno in sede. Ieri la società ha compiuto il compleanno numero 105. Andiamo in Serie D. Paris Avezzano, Dos Santos è il mio CR7. Il padrone elogia il suo bomber che dovrebbe arrestare. Altre notizie. Pineto, sinergia ok. Arriva fortunato in basso. Le parole di Bartolini, presidente del Real Giulianova. Il gruppo storico, dice il numero uno giallorosso, andava confermato. Anche qui andiamo in D. Nasce una super vastese con Shiba e due veterani. Il patron Bolami Gongola. Ora chiediamo alla città di starci vicino. Oltre all'attaccante ha anche un portiere ed un difensore di alta qualità. Vediamo i test amichevoli di tutto rispetto. Sam Benevento. Si aspetta anche la risposta della Salernitana. Altre notizie. La MotoGP, la Bruzzese e Giannone contro Espargarò alla terza curva. Corsa finita. In eccellenza il Chieti cerca Under. Gli obiettivi Spadone e Di Pietrantonio. In basso il San Nicolò si trasferisce a Notaresco. E per l'eccellenza Marini e Farinelli vanno al Martinsicuro. Per il rugby, l'Aquila, la A è più lontana. Ha chiesto al club di compensare un debito di oltre 200 mila euro. La federazione riconosce 124 mila e vuole le spese del procedimento. Per il volley, la Sieco inizia la tre giorni di mercato a Bologna. In Olanda via gli europei di Beach con Lupo e Nicolai. In alto, premio Marciano. Via la festa di sport, arte, cibo e cultura. Fino a sabato il Borgo dei Campioni ospita la Kermess. Torniamo sul centro perché andiamo in casa a Chieti. In eccellenza Chieti va a caccia di Under. Mirino su Di Pietrantonio. Vicinissimo l'ex Francavilla. Ha un passo ronzino del Barletta per la porta Cespadone. Pacella intanto dice sono qui per vincere. Anche in questo caso vediamo le date dei ritiri delle squadre. Il massimo campionato regionale. Nereto invece è scatenato. Ecco Pagliuca e Florimbi. Mercogliano e Di Virgilio a Paterno. Calvarese e Sorci a Martizzicuro. Cupello, Silvestri è il nuovo presidente. Cambiamo pagina. Lanciano del Grosso vuole fare la storia. Nel club rosso-nero nessun allenatore ha mai vinto due campionati consecutivi. Casalbordino e San Salvo dice il tecnico. Saranno i nostri rivali. Il Piazzano riparte con grandi novità. Andiamo al basket. Il nuovo volto di Roseto è Nikolic. Mi sento pronto a guidare gli Sharks. Lazar Nikolic, Play Serbo, ex Stella Azzurra, società con cui c'è una collaborazione. Con Roseto è rientrato dagli Stati Uniti a voglia di stupire. Non sento la pressione. Punto a essere uno dei migliori nel mio ruolo. Per la B. L'amatori Pescara completa i senior con l'arrivo di Carpanzano. In basso siamo in casa a Teramo. Adriaticapressi interessano Aromando e Gatti vicino all'ingaggio dell'Under Signorini. Giulianova ufficializza il tecnico Ciocca con De Ross e Ferraro. In altro basket Chieti. In arrivo l'ala Pappalardo. Il coach Sorgentone. Abbiamo un organico equilibrato. A fine mese il calendario e poi ci sarà il via il 7 ottobre. Per il Beach Volley, Annibalini, regina della sabbia d'Alba Adriatica, si aggiudica il torneo offertevillaggi.com strappando il titolo al Leonardo. Questa era l'ultima news che abbiamo letto dai giornali. Mattino 6 termina qui ma torna domani puntuale alle ore 8. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 14 con la prima edizione con tutte le notizie del nostro territorio. Buona giornata. Buona giornata.